Anche se è cambiata molto rispetto alle origini, migliaia di aretini hanno battezzato l'avvio dell'edizione 2017 della Fiera del Mestolo con oltre 230 banchi, con shopping di tutti i tipi e ormai l'estate e le vacanze alle spalle. Acquisti per tutti i gusti, anche se di mestoli e di affini, ne sono rimasti ben pochi. Le previsioni del maltempo, piuttosto cupo e nelle prossime ore, non hanno spaventato né clienti né ambulanti. Come sempre la Fiera si snoderà in via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, l'Arena Eden, via Margheritone, via Sab, via Pietro Aretino, piazza Sant'Agostino. Numeri però per questa Fiera chiaramente in calo rispetto ai 280 espositori dei tempi d'oro. In tanti nel frattempo hanno cessato l'attività. Comunque sì, per gli aretini è sempre un appuntamento a cui si rinuncia con difficoltà.